Bene, se non ci sono altre cose, altri contributi, qualcuno che vuole dire due parole, si può avvicinare qua al megafono, ovviamente il microfono è aperto, altrimenti continuiamo questa gita turistica oggi qua al cantiere con la promessa di ritornarci presto. Io vi ringrazio tutti per essere stati qua, per avermi accompagnato in questa importante giornata. E penso che oggi con questa nostra determinazione abbiamo dimostrato di che pazza siamo fatti e lo dimostreremo tutti i giorni da oggi in poi ancora di più. Buona giornata, buon ritorno e buone lotte a tutti. Chiediamo che la rispettina un po' di più. Adesso c'è la posa. Attenzione, attenzione che... Oh, cuidate una mano. Grazie 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 Grazie